Con un motorino sono andato a vedere Giotto a 14 anni, non mi è piaciuto, troppe stelline. Tutte le cose che ho visto fino a quel momento mi sembravano delle decorazioni, mentre la poesia mi sembrava la concentrazione dei pensieri, delle idee, della passione, quindi leggevo i poeti. Finché ero in università i professori di italiano mi sembravano proprio troppo noiosi, troppo faticosi da seguire, c'era invece un professore d'arte che saltava sui banchi, era bellissimo, chiamava Arcangeli, e quindi il suo esempio e la sua passione mi hanno indotto a pensare, avevo 18 anni, quindi abbastanza tardi, che l'arte aveva qualcosa, e così sono partito, sono venuto a Lucca per vedere questa bellissima scultura che è Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia, che è una donna, una giovane donna di 18 anni, che sembra viva, e ho visto che parlava, che la pietra parlava, e quindi da lì, quindi sarà stato l'agosto del 1970, ho cominciato a occuparmi d'arte.